Fazzioli, riconosce il mondo per la qualità. Tutto piano Fazzioli è un trascimento unico, individuamente handcraftato, con caccia dalla stessa foresta che Stradivari usò per la sua famosa violenza. Fazzioli è offerto esclusivamente in Florida da Euro Pianos. Visite il nostro ruolo e scopre perché questi strumenti sono chiamati i migliori pianos del mondo. Euro Pianos è conveniente localizzato solo su US 41, in Nord Naples.